Ciao, benvenuti in questo nuovissimo video ragazze e ragazzi, se qualcuno mi guarda vi auguro un buon Natale, spero che abbiate passato delle splendide feste e questo è un video assolutamente fuori programma, ora vi spiego tutto come potete vedere è un video che parlerà di Zara, è un video estremamente in ritardo ma ho deciso di farlo e di pubblicarlo lo stesso, ora vi spiego cosa è successo è successo che questo video come vedete parlerà di Zara, di Zara vestiti molto eleganti soprattutto erano stati pensati per il capodanno ma mi hanno perso il pacco il pacco ci ha messo un'intermità da arrivare e quindi sono in ritardo ho voluto filmarlo lo stesso perché ormai le cose erano arrivate e quindi ho detto vabbè lo filmo comunque, non fa niente ma siamo un po' fuori tempo massimo ovviamente per comprare online e quindi l'unica soluzione eventualmente è se avete un negozio Zara vicino o se comunque le cose cose vi piacciono, vederle ai saldi eccetera saranno tre vestiti piuttosto eleganti, mi dispiace essere arrivati in ritardo ma non è di peso da me mi hanno fatto impazzire con questo pacco ma prima ragazze ci tengo ora non saltate questo pezzo perché parlerò di un brand parlerò di un brand ma non sarà, non è un brand qualunque è un brand nel quale credo veramente tanto che stimo veramente tanto quindi vorrei che vi soffermasse veramente quei due minuti se avete bisogno e non sapete come abbinare gli accessori gioielli o bigiotteria vi parlo di un brand che si chiama Ana Luisa abbiamo già avuto modo di conoscerlo qui sul mio canale forse anche su altri canali è un brand molto famoso è un brand americano hanno quasi un milione di seguaci hanno milioni di clienti e ragazzi io ho avuto modo di provarlo per quasi un anno e vi posso dire fino ad ora è il miglior brand di gioielli e non gioielli ma comunque con materiali pregiati che io abbiamo provato sappiate solo che questo eccolo qua questo orecchino di Ana Luisa ce l'ho da un anno e sembra che l'ho comprato ieri cioè guardate qua è perfetto ragazzi cioè guardate qua da un anno eh non l'ho nemmeno mai pulito non ho fatto niente un anno cioè un anno è perfetto come prima questo anello pure perfetto cioè è tutto perfetto ragazzi io non so loro come li fanno sicuramente li fanno bene questa è una certezza vi parlo al buono del brand qui vi faccio vedere il sito ragazze il brand è pazzesco hanno delle cose bellissime veramente stupende io ormai li porto sempre tutti i giorni sono diventata una fan spiegatata degli accessori credo che veramente cambiano tutto cioè ma proprio tutto e sono troppo entusiasta troppo mi calmo mi piace troppo veramente i gioielli si dividono in due gruppi su Annalisa ci sono i veri e propri gioielli quindi abbiamo l'argento placcato oro oro 14 carati oppure ci sono gioielli in rodio placcato oro o placcato argento e abbiamo varie fasce di prezzo come potete vedere fanno sempre tantissimi sconti e la cosa che mi piace di più è che usano materiali riciclati quindi sono anche piuttosto attenti all'ambiente e hanno questi gioielli senza tempo ma anche estremamente moderni io sono molto 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 una rompipalle sulla scelta dei gioielli mi piacciono veramente determinate cose in un determinato stile di un determinato tipo e allora veramente ce l'hanno per tutti i gusti ragazzi io li amo li amo li amo mi viene costantemente chiesto cosa indosso dalle amiche dai parenti dalle fidanzate degli amici insomma tutte mi chiedono dove prendo i gioielli questa collanina penso che mi accompagna veramente ogni giorno ormai è molto facile anche per fare il cosiddetto layering cioè per metterla con altre collane ma anche così da sola cioè guardate quanto è bello tutto l'insieme l'anello con l'orecchino così troppo bello cosa rimandano ragazze cioè state pronte perché vi facete delle cose sono qua pazzesche allora prima di tutto vi voglio dire che i gioielli arrivano tutti in questi sacchettini gli orecchini in questo verde le collane in questo qua e gli anelli in questo sappiate che sono di una comodità veramente fuori dal comune perché per viaggiare sono il top cioè sono comodissimi questo è il brand come vedete e i sacchettini ragazzi cioè tra l'altro quelle delle collane dentro hanno anche un divisorio e tutto questo cioè compreso nel prezzo non è che dovete pagarlo in più allora ragazzi vi faccio vedere qua la panoramica zoomata ma delle cose bellissime allora l'anello questo qua poi allora questi per me sono tipo il primo acquisto perfetto di Ana Luisa perché ragazzi cosa vi devo dire adesso vi faccio innamorare e ve lo dico allora eccolo qua voglio farvelo vedere bene questo è l'orecchino vedete è un l'orecchino con una perlina ma di un'eleganza ecco qua di un'eleganza veramente fuori dal comune per quel che mi riguarda ve li faccio vedere bene eccoli qua eccoli qua cioè guardate quanto sono belli adesso me li metto ma sappiate che questo è cioè me lo sono scoperta a mie spese è praticamente doppio orecchino perché voi togliete questa con attenzione ovviamente senza perderla e avete un semplicissimo orecchino vedete qua un anellino molto semplice ragazzi questi me li sono messi a Natale con la famiglia del mio ragazzo e tutti mi hanno chiesto che orecchini sono perché sono veramente troppo belli e davvero ho ricevuto un sacco un sacco un sacco di complimenti per questi orecchini mi hanno inviato questa qua questo orecchino qui molto carino aspettate che non metta a fuoco niente eccolo qua vedete riflette un po' è proprio con dei puntini luce eccolo qua questo è argento placca d'oro e questo orecchino qui anche questo è salito nella lista dei miei preferiti perché è comunque un cerchietto molto carino discreto ma davvero va con tutto per quanto riguarda le collane ragazzi questo set che io ho scelto veramente a caso pensando addirittura che fosse una sola collana sapete con più con più collane ma invece erano proprio due collane separate e questa collana qui è estremamente di tendenza in questo periodo guardate come riflette sono troppo bello come si fa e sanno troppo bene e anche questa l'ho messa a Natale insieme all'orecchino con le perle e anche qua ho ricevuto veramente un sacco di complimenti se ne sto parlando è perché veramente ci credo io stessa ho acquistato questo anello per regalarlo alla mamma del mio ragazzo e anche ad una amica però in argento in colore argento e lo hanno questo qua e lo hanno apprezzato veramente tantissimo ragazzi andate almeno a farci un giretto vi sto facendo vedere qua tutta la varietà di roba che trovate e anche il mio codice sconto che è questo qui e basta che lo digitiate e vale anche su un singolo prodotto quindi non dovete per forza comprarne più di uno così se volete provare senza fare un mega questone mi raccomando cliccate qua sotto sul sito così loro sanno che vi interessate scherzo però andate almeno a darci un'occhiata perché sono troppo belli ma oltre ad essere belli sono anche gioielli che durano e bigiotteria che dura sono io sono innamorata veramente mi li metto tutti i giorni tutti i giorni ho qualcosa di Ana Luisa sono veramente bravissimi loro hanno un servizio clienti molto efficiente e io ci credo davvero tanto ragazze perché vi cambia tutto cioè guardate questo outfit molto semplice come ha preso subito vita con con questi stendi di gioielli e andate assolutamente a dare un'occhiata al sito di Ana Luisa ripeto trovate il link qua sotto se cliccate vi rimanda direttamente alla pagina sono anche piuttosto celeri con le spedizioni perché non spediscono dall'America se non avete nessuna dogana da pagare non tassero niente quello che pagate è il prezzo poi effettivo vi faccio vedere i vestiti di Zara prima di andare off topic sono arrivati tardi allora il primo vestito che vi faccio vedere è questo qui è un vestito con lo spacco spero che si veda un vestito con un mega spacco che adesso io mi proverò è molto carino costa 45 euro ho preso la taglia M e per il capodanno è perfetto era perfetto anche per il Natale mi piace veramente molto e devo dire che veste davvero bene ma adesso me lo provo così ve lo faccio vedere al volo allora ragazzi questo è il vestito molto attillato dopo queste feste di Natale è un po' allora eccolo qua vedete mica spacco questo ma come sapete che sono abbastanza altiva quindi a me è una ventestale e mi diventa un po' più corto ma comunque penso sia nel limite della decenza quindi va va bene per quanto riguarda il sopra è tutto coperto molto casco sopra perché sfruttagiai così e mi piace mi piace molto adesso vi faccio vedere da rotano per me vicino comunque credo che sia un bel vestito cioè veramente di effetto molto sensuale mi piace mi piace tantissimo perfettissimo per il capodanno direi è molto bello un bel vestito non c'è molto da dire allora vi faccio esprimere un attimo il tessuto perché è particolare vedete è elasticizzato quindi non stringe non dà fastidio ovviamente rimane attillato quindi cioè o ci vorrebbe una guaina in modo che assorba tutto però per il resto è comodo è comodo veste bene e basta il tessuto mi piace mi piace molto credo che valga 30 euro però vabbè adesso con l'aumento di prezzo l'hanno messo a 45 e va bene va bene così insomma avete modo di trovarlo in negozio o comunque se lo vedete i saldi se lo volete provare se lo volete comprare a prescindere dalle feste lo consiglio perché è un vestito parecchio parecchio d'effetto nonostante la sua semplicità e penso anche che poi sia adatto anche ad altre feste san valentino non lo so o la compleanno quello che volete però non è per forza da rilegare insomma le feste natalezze quindi venite promosso e a rifacere il prossimo vestito sul quale avevo delle aspettative enormi perché Zara ha fatto uscire questa linea di abiti chiamandoli non so in un modo particolare ma non mi ricordo elegant collection comunque una cosa del genere e come testimonio c'è Irina Sheik che è la super figona iper modella famosissima i vestiti ad un prezzo alto perché questo costa 130 euro su di lei stava da dio era bellissimo ce ne erano tanti io ho scelto questo che ora spero che renda sì è un colore verde scuro è tipo un verde militare è un colore che a me piace molto perché credo che si abbini bene ai miei occhi però in generale è un colore che apprezzo molto perché è diverso dal nero e qui si chiama Zaro Studio la linea eccola qua quindi avevo delle grosse aspettative verso questo vestito l'avevo anche pagato 130 euro se fosse stato un vestito davvero pazzesco già il tessuto sinceramente così al tatto non mi ha proprio fatto girare la testa perché sembra molto sintetico non lo so non mi dà con l'idea di fibra no di di buona qualità come dire di buona fattura quindi già questa cosa non mi ha proprio fatto impazzire il vestito per quel che mi riguarda non vale 130 euro perché io l'ho già provato ora ve lo faccio vedere addosso anzi ve lo faccio vedere poi ne parliamo mi cambio ragazzi mi sono vestita questo è il vestito come potete vedere ha una lunghezza un po' ambigua che a me non piace e questo è la parte frontale che forse veramente l'unica cosa carina avendo due maniche così differenti però la lunghezza non mi piace sinceramente io l'avrei voluto lungo normale cioè lungo fino almeno alla caviglia e mi dice questa lunghezza così non mi piace non so se dipende dalla mia altezza o meno per quanto riguarda veramente la qualità è davvero bruttino cioè non vale assolutamente questo prezzo quindi è stata un po' una delusione perché giustamente alla modella sta benissimo in foto ma poi su un corpo normale come il mio non non rende non rende benite non rende proprio cioè proprio zero di zero e vabbè mi faccio vedere l'orecchino così vedete almeno una cosa bella in questo video sono le orecchine di prima con le perle molto belle molto belli e basta ragazzi non voglio soffermarvi perché non ve lo consiglio non so come possono essere gli altri vestiti di questa linea ma se questo è così presumo che anche gli altri siano simili vi faccio vedere il prossimo vestito a volo che è un vestito molto carino finalmente qualcosa con le paillettes visto che quest'anno mi era mancata la cosa che più mi ha fatto impazzire e più mi è piaciuta è il fatto che queste paillettes siano iridescenti in questo modo ora riflettono parecchio la luce della mia ring light ma in realtà sono non sono iridescenti cioè sono più ma sono marroni vabbè vedete la base della paillette è marrone spero che si veda e poi riflette appunto di argento quindi io adesso mi vesto con questo qui per farvelo vedere ci vediamo tra pochissimo ragazzi questo è il mio vestito con le paillette eccolo qua è un po' cortino come vedete comunque io avendo un lato più un po' prorompente diciamo che mi sale qua dietro però il vestito in sé è molto carino ci sono due cose negative il fatto che non vesta benissimo nel senso che vedete che qua rimane un po' largo in questa zona cioè vabbè ora ho nascosto la bretella del reggistero però rimane un po' largo in questa zona cosa che non mi piace tantissimo e il prezzo perché costa un bellezza di 60 euro che trovo un pochino esagerato però se magari lo beccate i saldi credo che c'è un ottimo vestito per le feste dai riciclare anche con un dolce vitamino sotto una camicia bianca sotto o un manoncino sopra secondo me ci possono stare bene però ecco dovete scegliere bene la taglia mi piace molto il vestito che trovo sia diverso dal solito nero ma non esagerato magari come un argento un rosso o un oro un oro cioè le paglietoro però ecco questi sono i difetti che vi ho elencato altr'altro il bordino qua è fatto tipo in velluto credo che credo che si veda ho messo questo orecchino che vi ho fatto vedere prima che è molto elegantino e basta questo quindi questo è il vestito ragazzi io vi ringrazio per il vostro tempo mi raccomando ricordatevi il mio codice sconto di Anna Luisa che è questo qui se volete acquistare qualche nuovo gioiello per l'anno nuovo sicuramente tra pochissimo ci saranno i saldi quindi io direi assolutamente di approfittarmi se non volete comprare più cose utilizzate solo il mio codice sconto così comprate una cosa sola vi raccomando trovate il link qua sotto nel box descrizioni ragazzi vi ringrazio per il vostro tempo vi auguro ancora una volta delle buonissime feste noi ci vediamo nel prossimo video e io vi mando un abbraccione ciao ciao